Una nuova inchiesta sul mondo del calcio vede coinvolto l'attuare presidente della Lazio, Lottito. Infatti una perquisizione da parte degli agenti della Digos di Roma è separificata oggi nella sede della Federcalcio nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli, scaturita dalla registrazione di una telefonata con Lottito consegnata agli inquirenti dal direttore generale dell'Ischia Calcio Iodice nei mesi scorsi. I presunti illeciti riguardano l'erogazione di finanziamenti a società calcistiche. L'inchiesta è condotta dai PM di Napoli, Donofio Ranieri Capuano e Di Simone ed è coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Fiscitelli.